La Santa Chiesa Cattolica chiede che sia ordinato Vescovo, il presbitero Rolandas Macricas. Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha ordinato Vescovo nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, Monsignor Rolandas Macricas. Originario della Lituania, dal 15 dicembre 2021 è commissario straordinario di Santa Maria Maggiore e Papa Francesco l'ha nominato Vescovo titolare di Tolentino l'11 febbraio scorso, conferendogli il titolo personale di Arcivescovo. Tutta la comunità della città di Tolentino aveva sottolineato in quell'occasione il sindaco Mauro Sclavi, accoglie con gioia e devozione la notizia. Con questo titolo onorifico la nostra città si lega in amicizia e spiritualmente ad un importante Arcivescovo e mantiene viva la memoria storica della diocesi di Tolentino, oggi guidata dal Vescovo Nazareno Marconi. Per il mio moto episcopale ho scelto le parole Deus Fidelis Manet Dio rimane fedele Sento che è in modo molto chiaro che nella mia vita il fedele è stato e rimane Lui, nostro Signore. Mi è lieta la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Nazareno Marconi, Vescovo di Macerata, dove si trova la diocesi titolare di Tolentino e del sindaco della città di Tolentino, onorevole Mauro Sclavi. Rivolgo un caloroso grazie a tutti i colleghi, con fratelli e gli amici della Segreteria di Stato. Monsignor Rolandas ha prestato servizio presso varie rappresentanze pontifice e la sezione per gli affari generali della Segreteria di Stato e per questo il Cardinale Parolin ha richiamato il suo ruolo di diplomatico invitandolo in modo particolare ad essere operatore di pace e invocando su di lui il dono di una pace che il mondo purtroppo oggi non conosce, ma verso cui anela. Grazie, Aču.